Droga in Via Algeri, Polizia di Stato segue importanti operazioni di contrasto. La Polizia di Stato negli ultimi giorni ha intensificato l'attività di contrasto allo spazio di sostanza sufficiente in Via Algeri. Servizi predisposti dalla questore di Seracusa a partire dalla metà di settembre in occasione della riapertura di molte attività che hanno visto ripopolarsi della città. Oltre ad assicurare la prevenzione della commissione dei reati ha consentito importanti successi sotto l'aspetto repressivo grazie a mirate operazioni in città e provincia che hanno visto impegnate la sezione antidroga della squadra mobile di Siracusa. Nell'ambito degli stessi servizi si è sviluppata all'albero di stamane un'altra operazione di contrasto allo spazio di sostanza sufficiente in contesti frequentati da assuntori. Numerose pattuglie della squadra volante e della squadra mobile hanno assediato tutta l'area limitrofa alle case popolari. Le operazioni della squadra mobile non sono ovviamente terminate in quanto analoghi servizi vengono predisposti dalla questura con continuità. Contemporaneamente si attende l'esito degli approfondimenti delle informazioni apprese nel corso dei vari interventi atte a identificare i fornitori degli arrestati.